Salve a tutte e a tutti, oggi voglio vedere insieme a voi una penna che mi è arrivata qualche giorno fa ed è stata immessa sul mercato da circa due settimane, un po' meno. E si tratta di una penna della Narval, o meglio, Navalur, prima il nome era Navalur, adesso hanno cambiato il nome di questo marchio in Navalur, solo che hanno utilizzato una scatola ancora con la scritta Narval, probabilmente hanno in stock diverse scatole, quindi devono prima completare l'utilizzo di queste per poi passare a quelle con il marchio Navalur. Narval è il nome in inglese del Narvalo, che è questo cetaceo che vedete impresso come logo sulla scatola, però hanno deciso di cambiare il nome da Narval a Narvalo perché cercando sui motori di ricerca Narval era più facile trovare immagini del cetaceo che risalire al sito della penna. Quindi ho acquistato questa penna da Stilo e Stile, l'ho presa in prevendita perché era un'edizione limitata e quindi hanno aperto la prevendita qualche giorno prima che fosse lanciata sul mercato per potersi accaparrare la penna, oppure probabilmente sarebbe esaurita in pochissimo tempo e non tutti gli utenti avrebbero potuto acquistarla. Ne sono state prodotte 500 in tutto il mondo, però purtroppo quello che non mi è piaciuto è che non si trova da nessuna parte scritto che si tratta di un'edizione limitata, non è numerata, e quindi dobbiamo affidarci al buon senso del marchio, sperando che ne abbiano prodotte realmente 500 e non un numero superiore. Ne sono state lanciate sul mercato di due modelli, o meglio il modello è lo stesso, l'original plus, ma in due colorazioni. Io ho scelto, come possiamo vedere, quella arriva in questo bell'astuccio morbido, sicuramente non è pelle vera, ma insieme in pelle, e all'interno troviamo questa penna, che è appunto, come vi dicevo, l'original plus. Io ho preso quella con cappuccio e fondello nero e finiture in oro rosa. L'altra colorazione disponibile sul mercato era sempre con finiture oro rosa, ma con queste parti nere, bianche. Vedete sulla veretta ci sta ancora la scritta, non lo mette a fuoco, un attimo, ecco, Narval, nemmeno la veretta è stata sostituita da una con il nuovo nome, e da nessuna parte si vede che si tratta di un'edizione numerata, un'edizione limitata, la numerazione sarebbe stata gradita. Bastava anche mettere soltanto la numerazione sul certificato di garanzia. Qui troviamo anche un manuale delle istruzioni, che però non è in italiano. Ma andiamo a vedere la penna, io la inchiostrerò adesso per la prima volta insieme a voi, perché l'ho ricevuta un paio di giorni fa, giusto al tempo di lavarla, e oggi la inchiostreremo insieme. Vedete il pennino, sempre sul pennino ci sta il logo, il Narval, con queste decorazioni. Io ho scelto una gradazione F, anche la sezione di scrittura è nera, mentre la Original Plus è completamente trasparente, l'unico modo per differenziare un'edizione regolare da un'edizione limitata è proprio la colorazione, però. Se ne facessero in futuro un'altra di altre colorazioni, comunque non sarebbe distinguibile, se non per chi lo sa. Si tratta di una penna con sistema di caricamento Vacuum Filler, basta svitare il fondello e tirare indietro il pistone, e per caricarla basta immergere il pennino in un calamaio, fa scendere il pistone e con la depressione che si viene a creare all'interno della sezione di scrittura, si carica di inchiostro. La penna è completamente smondabile, possiamo, vedete, ci sta questa parte della filettatura che leggermente non è stata levicata, diciamo, quindi possiamo inserire una chiave apposita, una pinza, fare pressione e poter svitare lo standuffo per fare una manutenzione più approfondita della sezione di scrittura e per incassarlo, perché ogni tanto c'è bisogno di passare del grasso siliconico sulla guarnizione dello standuffo, mentre la sezione di scrittura viene via abbastanza facilmente e possiamo lavarla con acqua di rubinetto. L'alimentatore è in plastica, ma andiamo a vedere come si comporta, la carichiamo e poi facciamo la classica prova di scrittura. di questa penna ne ha anche abbondantemente parlato Gargaros già in una sua recensione che è uscita qualche giorno fa. Vi consiglio di andarla a vedere, perché come vi dico sempre, non bisogna mai fermarsi alla prima recensione, ma per farsi un'idea di una penna, di uno strumento di scrittura, di una carta, di quello che vogliamo, secondo me bisogna ascoltare quante più recensioni possibili per potersi fare un'idea più precisa, perché magari io posso avere delle opinioni su questa penna, Gargaros e altre, ed altri appassionati di stilografiche, delle opinioni ancora diverse. Andrò ad inghiostrarla con questo Diamine colore lavanda, avevo preso insieme alla penna questi due inghiostri della Rohrer & Plinner, uno Salix e l'altro Scabiosa, e volevo inghiostrarlo con Scabiosa che tende al viola. Cerchiamo di non fare disastri con l'altro calamaio aperto. Ma questi sono degli inghiostri, come potete vedere, sono inghiostri ferrogallici, quindi, avendo già avuto esperienze non troppo positive con le pinture in oro rosa, preferisco non inghiostrare questa penna con un ferrogallico, ma sono passato ad un inghiostro sempre di colore che tende al viola, ma questa volta della Diamine, che è un inghiostro all'acqua. come potete vedere nei video che ho pubblicato, ci sta un problema che ho avuto con le finiture oro rosa del pennino della Leonardo, e non avevo utilizzato inghiostri ferrogallici, ma soltanto Diamine. Quindi, per evitare dei problemi, li utilizzerò per altre penne, soprattutto con penne che non hanno finiture in oro rosa, che sembra essere molto delicata come finitura, ma per questo utilizzerò un inghiostro della Diamine, sempre se entra la sezione di scrittura all'interno del calamaio. Come vi ho detto, basta inserire il pennino all'interno del calamaio, premere sul fondello, e quando lo standuffo arriverà alla fine della sezione di scrittura, la depressione che si va a creare all'interno del fusto farà riempire di inghiostro la penna. Facciamo la prova, vediamo se funziona. Ecco, come potete vedere, immediatamente si è riempita la penna, ma per metà non completamente. È possibile anche riempirla completamente, ma non c'è bisogno di ripetere la procedura diverse volte e non è una cosa che attualmente mi interessa, ma come vi dicevo, Gargaros ne ha parlato e ha anche fatto vedere la procedura da ripetere più volte per riempirla il più possibile. Perché volevo mettere quest'inghiostruiola? Perché mi piace l'effetto che si va a creare con il movimento dell'inghiostro all'interno della sezione di scrittura. Se fosse pieno fino all'orlo, il movimento non ci sarebbe se non dopo aver scritto per un po' di tempo. Essendo una penna vacuum filler, è buona norma svitare leggermente il fondello quando si va a scrivere, perché serrando il fondello il pistone va a tappare completamente la sezione di scrittura e quindi non ci sarebbe afflusso l'inghiostro all'interno dell'alimentatore se non quel poco che è rimasto quando si è caricata. Quindi andiamo a svitare leggermente il fondello e facciamo la nostra prova di scrittura e vediamo come si comporta questa penna. Allora, facciamo una prova di scrittura, vediamo come si comporta questa penna sulla carta. Pennino, come abbiamo detto, è F. L'inghiostro è il diamine lavanda. Facciamo tutte le prove che normalmente facciamo e mi sembra che scriva bene. F... adesso lo paragoniamo con un altro F. Ecco, nella velocità qualche tratto lo ha perso, c'è stato qualche salto, però non so se è perché il pennino che salta, se è per la velocità, se è perché... Ecco, adesso che l'ho riprovato non ha avuto nessun problema. Probabilmente ero io che avevo alzato leggermente il pennino dal foglio. Facciamo una prova con... paragoniamolo a un F che già conosciamo, è l'F della Visconti Ecologic e diciamo che l'F è abbastanza simile, può essere considerato realmente un F al pari di un fine della Visconti. Questa è la prima prova di scrittura che faccio con questa penne, l'ho fatta insieme a voi, però non escludo che se utilizzandola dovrò ricredermi su quello che vi ho detto, cioè che scrive bene che è un F realmente F oppure che avrò dei problemi che si riscontreranno soltanto utilizzandola per più tempo, magari farò un altro video dedicato proprio al pennino e a come scrive. Questa è soltanto l'impressione di scrittura proprio a caldo, appena inchiostrata e quindi senza aver avuto esperienze pregresse con questo pennino. Voglio solo paragonarla a penne che già conosciamo un po' di più perché non è proprio piccola come penna. La paragoniamo a una Leonardo momento zero ed è leggermente più grande però volevo paragonarla ad una Lami che più o meno è una penna che conosciamo tutti però non la trovo eccola qui non ho trovato la Lami ho trovato la Ginao 777 però essenzialmente le dimensioni sono le stesse e possiamo dire che Lami e la Original hanno le stesse dimensioni è leggermente più piccola la Leonardo ma vediamole tutte e tre senza cappuccio così da avere un riscontro anche senza il cappuccio e più o meno sono poi simili sì abbastanza simili il cappuccio si può calzare però diventerebbe davvero una penna pesante ed imponente da tenere in mano e poi scrivere l'unica cosa che ho dimenticato di dire prima è che era presente sul mercato già la la Original e il sistema di caricamento era a stantuffo adesso hanno lanciato la Original Plus ed ha questo altro tipo di sistema a caricamento cioè a siringa rovescia o vacuum filler io credo di aver detto tutto quello che c'era da dire su questa penna vi ringrazio per aver guardato il video e vi do appuntamento prossimamente per nuove recensioni grazie e a presto